Tentativo di rapina finisce in violenza, succede all'Ipersimpli del centro commerciale Irone di Monselice, protagonista un 47enne del posto. L'uomo aveva riempito un cestino della spesa con prodotti di vario genere, soprattutto alimentari. Alle 10.50 ha tentato di uscire attraversando le casse senza pagare, ma non è passato inosservato. Al suo inseguimento si sono lanciate diverse persone, soprattutto dipendenti dell'ipermercato, che da qualche minuto lo stavano tenendo d'occhio per il suo comportamento a dir poco sospetto. Il malvivente, vistosi braccato, ha aggredito con calci e pugni un dipendente del supermercato che è finito in ospedale. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato il 47enne.